partito? si dovrebbe essere partito ragazzi aspettate fatemi sistemare e niente ragazzi niente il Milan distrugge il Cagliari ma proprio lo distrugge benissimo lo distrugge in maniera eclatante non me l'aspettavo ragazzi sinceramente perché comunque il Cagliari è una buona squadra però raga è ancora l'inizio è ancora l'inizio complimenti al Milan che comunque ha giocato bene ha meritato dall'inizio alla fine non mi aspettavo il gol di Tonali che non segna mai però stavolta ha deciso di farlo per il resto ragazzi Giroud mostruoso, monumentale segna e fa anche appunto il rigore un rigore calciato benissimo porca di quella e Brahim Diaz che ragazzi lo volevo prendere al fantacalcio non l'ho preso e l'ho presa in quel posto però al Fanta sto andando benissimo perché mi segna Isai mi segna Felipe Anderson mi segna Luisa Alberto mi segna Niko Gonzalez mi segna Veretù quindi ragazzi sono a posto al fantacalcio però ragazzi complimenti al Milan complimenti a questa squadra per come sta giocando per il gioco che sta mostrando veramente Pioli ragazzi sta andando a continuare a un progetto che dura ormai da questo sarà il quasi terzo anno due anni e mezzo fondamentalmente di un Milan sorprendente ragazzi quindi si candida tramite le prestazioni anche il Milan a eventualmente giocarsela per lo scudetto la partita poi della Roma anche la Roma poi adesso che vanno sotto la curva ok neanche avessero fatto la fila di 10 vittori consecutivi vabbè anche la Roma ragazzi ha fatto una partita bellissima fondamentalmente l'ho vista a sprazzi però il risultato fa vedere insomma che li hanno ammazzati complimenti al Milan ragazzi allora il discorso è questo è un campionato molto strano dove la Juve che per me era favorita si sta rivelando invece in un flop pazzesco però so anche l'esperienza calcistica l'esperienza di molti ok che ho 26 25 anni però l'esperienza di tutti i campionati che ho visto mi porta a dire che le prime valutazioni si possono fare dalla decima di campionato decima dodicesima ecco tutto quello che viene prima quindi prima di dicembre non vale a niente quindi sostanzialmente da gennaio in poi cominciamo a parlarne di favorita non favorita anche se sono supposizioni quindi per me ancora ragazzi è troppo presto perché ci sono troppi meccanismi che ancora devono magari la Juventus poi in garra le vince tutte magari il Minan poi fa cagare io non parlo dell'Inter ragazzi perché non ne voglio parlare dell'Inter oggi in questo video voglio parlare delle altre squadre non mi avete visto mai avvezzo a farlo però ragazzi vi avevo promesso di essere più presente nel canale lo sto facendo in questo modo non vi potrò portare la carriera natura perché ragazzi non ho tempo di poter editare i video quindi è inutile che io mi metto a registrare perché poi non li posso editare si perde un'ora minimo e quell'ora ragazzi io non ce l'ho perché faccio 9 ore al lavoro torno mangio mi corico e poi vado a dormire quindi tutto qua invece un video così di 5 minuti lo posso fare per il resto un ottimo Milan ragazzi ditemi voi cosa ne pensate migliori in campo Giroud perché doppietta ma comunque ha dimostrato di essere un buon giocatore e della Roma ragazzi Pellegrini mi piace da morire veramente mi piacerebbe averlo all'Inter ragazzi ditemi la vostra un bacio sempre forza Inter secondo voi il Milan è favorito per lo scudetto iscrivetevi al canale ragazzi attivate la campanellina e seguitemi su Instagram per rimanere sintonizzati su tutte le novità del canale e anche dei miei contenuti extra un bacio ciao